Vai in volo signori in volo Andiamo ancora a bacino ragazzi, ci sta Ma se non ho Amazon Prime, e se non ho Amazon Prime devi per forza, oh cacchio ho sbagliato, no io scendo male dude Anzi no no forse, vai vabbè pinnacle ok, andiamo alle parziale, credo già un pompa nice Ottimo Che piazzerà anche ma così Va benissimo 101 Una In da face Lo c'è questo? Ce l'ha le bande? Si si Tipo lì sotto Io devo prendere da qua andiamo di qua io sto pushando uno a sud ok bisogna pushare a volte ragazzi bisogna pushare potente qui stiamo a posto attenzione l'ho visto vai l'ho preso prepara un sole quindi dovest vado a prenderlo vado a pushare che fa 330 330 si vola vai madonna ne ha uno da me si riesce a venire eh questo qua con la dinamite mi sta facendo non posso scappare ho finito i materiali ok stavano da me madonna tre volte in testa tre volte in testa l'ho preso questo lol sta uscendo un bel mesh tra l'altro questo è molto interessante ok le vedi vai e anche fermo se non sbaglio io la pushare è potente bravo lasciamo un po' di merda vai come cercare un po' di fight ecco qui c'è fight perché non c'è la marina per tornare l'effetto della pietra ombra qualcuno la sa spiegare in chat raga sono bugato io non c'è la marina per tornare l'escrizione non c'è la marina per tornare l'escrizione è lo fai In the face! Ah, quel caccio. Allora, c'è un po' di materiale, va. Qui c'era morto qualcuno, non c'è materiale. No, infatti. Però mi prendo la dinamite. Così, un po' di carica per la vittoria. Reali numero due. Allora... Sono sopra la montagna ovest. Li vedi sopra la montagna? Sì? Arrivo. Ok. Vai! Vabbè, per te togli che lo divinite. Togli, togli le binte. Via, 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 via. Vabbè. In the face, dude! Riff Nice Questa è una bella partita Ho fatto delle kill Molto bello secondo me Ci sta un sacco Vai Volevo fare 10 kill oggi Te lo lascio fare Vai Me ne mancano due 20 20 ce n'è uno Vincinò la casetta Vado vado Lo pusho Dentro la casetta Buono Non c'è neanche la trappoletta Ma va bene così Grazie Garwood Vai saltando Di nuovo headshot ragazzi LOL Ho bisogno di un'altra kill ragazzi Ho bisogno di un'altra kill Cioè raga oggi ho fatto solo headshot Ma è assurdo Ma questa build Altissima Non c'è nessuno Ok Allora Non vedo nessuno Sono in safe Mi serve una kill Ok L'assurdo sta buildando Sbaglio Sull'albero Vero Sì Sì Però pusharlo Raga Però pusharlo Ce n'è uno qua C'è uno qua Cosa cosa Madonna ragazzi Ancora due headshot Non ci posso credere Posso farmi questo Vai 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 Anche se mi faresti fare Altre 12 bombe No vabbè dai vai tranquillo Vai tranquillo Dai L'ho visto L'ho visto L'ho visto Vai in volo signori In volo Non ci credo No ragazzi Non ci posso credere Non posso non caricare Questa vittoria Grazie tanto per le kill Gio Gio Gio